Amici dello Zoccolo Duro, buongiorno! Ma che bella giornata è oggi! Sembra quasi che c'è il sole, non c'è il sole ma sembra... guarda come sono tutto illuminato! Illuminato d'immenso, immenso di coppe europee! Allora, prima di iniziare vi lascio subito il video per comprare magliette a poco prezzo. Bye! Amici dello Zoccolo Duro, ultime occasioni prima di Natale! Guardate i prezzi, guardate i prezzi! Ragazzi, guarda guarda, questa è proprio la maglia di quelli che passano la Champions! Gli piacerebbe! Maglie della Nazionale, tute... ma ragazzi ma guardate i prezzi! Ultime occasioni prima di Natale, mi raccomando utilizzate il codice DURO! Con il codice duro, oltre a questi prezzi che sono stra super vantaggiosi, e trovate tutte le magliette, tutte le tute, tutto quello che vi serve, Con il codice avete il 10% di sconto, 10% di sconto, in più, in più, se superate i 49€ di spesa avete una maglia in omaggio Da scrivere nei commenti, quando andate a fare il pagamento, sotto la carta di credito, c'è uno spazio per i commenti, è lì che dovete scrivere che maglietta volete in regalo E avete la maglietta in regalo solo se mettete il codice DURO, quindi mi raccomando di mettere il codice DURO! Quindi sopra i 49€ una maglia in regalo, sopra i 99€ due maglie in regalo più la spedizione gratuita, sopra i 149€ ci sono 3 maglie in regalo e la spedizione DHL gratuita, quindi anche più veloce Ma che bella questa anche del Portogallo, 70% di sconto ragazzi, quindi mi raccomando link in descrizione, andate a prendervi le maglie e enjoy yourself Ciao belli! Avete visto? Sempre occasioni su occasioni su occasioni, mi raccomando, link in descrizione, bom 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 e accattatevele, accattateville Detto questo, io lo so, lo so già, non me lo dite, lo so già, siete tutti che mi iscrivete, fai il video con Vito che rosica, come rosica Vito Tanto non ho fatto nemmeno i pronostici, quindi se c'è qualche interista che mi segue, non venite a dirmi che ho aggufato, perché io non ho detto proprio una parola sto giro E non ho fatto nemmeno fare i pronostici a Vito, quindi colpa mia non è, colpa mia non è sicuro Detto questo, lo becco magari più tardi Vito, ci sto provando, l'ho chiamato, però ragazzi è tutto chiuso, non si può andare al bar, non si può andare al ristorante Per lo meno fino a domenica, perché poi riapriranno, fa freddo, lui è anzianotto, vediamo se riesco lo becco dopo Ma in questo video io volevo parlarvi di una curiosità, una curiosità, infatti sarà un video breve Secondo voi, chi fa il capitano stasera? E questa è una cosa che ci penso da ieri sera, già ieri sera ci pensavo di farvi questo video E ci ho pensato già ieri sera, e oggi me l'ha chiesto anche un ragazzo su Instagram Tanto ragazzi seguitemi su Instagram, ho messo una storia, cioè Mastrangelo che fa curucù, spettacolo E poi una storia di Vito che cerca le qualificazioni in Champions, cerca gli ottavi, bellissimo, andatevela a vedere su Instagram Stasera chi lo fa il capitano? Eh perché la formazione la sappiamo Provate a trovare un capitano in questa formazione che vi dico Tatarusano A destra gioca Conti, Gabbia, Duarte, Dalot Tonali, Krunic Castiglieco, Diaz, Auge E davanti Colombo Chi lo fa il capitano? Ecco, scrivetemi sotto Chi per voi farà il capitano secondo Pioli E chi invece fareste voi Io adesso vi dico la mia Ci ho pensato tanto ieri Perché è curioso Cioè, se tu dovessi andare per anzianità In teoria Penso che Andrea Conti sia quello che è al Milan da più tempo Tra questi qua Tatarusano è arrivato quest'anno Vabbè, Gabbia arriva dalla primavera Nel senso, in prima squadra, no? Quello che c'è da più tempo Anche Colombo arriva dalla primavera Però, in prima squadra Quello che c'è da più tempo Penso che sia Andrea Conti Perché gli altri sono tutti arrivati dopo Quindi, in teoria Per anzianità Perché di solito sapete che si usa l'anzianità In teoria dovrebbe essere Andrea Conti Dubito che lo faccia lui il capitano Dubito anche perché non si sa nemmeno se rimane Se non rimane Io Se dovessi decidere io Per me stasera il capitano Sapete chi lo fa? Vediamo chi indovina Proprio lui Proprio lui Sandrino vecchio cuore rosso nero Sandrino vecchio cuore rosso nero Sandrino vecchio cuore rosso nero Grazie il bambino milanino Che porta pure fortuna Io lo farei fare a Tonali Se dovessi decidere io Perché È un giovane su cui il Milan ha puntato Tifa Milan È un vecchio cuore rosso nero Ed è quel giocatore Che rimarrà Secondo me Perlomeno nei prossimi 5-6 anni Lui non si muove da Milano Nel senso Tatarusanu Che probabilmente sarà il capitano Perché secondo me Pioli glielo fa fare a Tatarusanu Perché è il più anziano Diciamo È il più esperto Quindi probabilmente lo farà a Tatarusanu Il capitano Per Pioli Io però lo farei fare a Tonali Anche per dargli un'importanza Perché comunque ha bisogno Di queste cose qua E poi perché Secondo me È quello che rimarrà di più Perché Conti E non si sa Se Se rimane o se va via Comunque in un periodo Un po' così Gabbia Era la mia seconda scelta Cioè la mia seconda scelta era Gabbia Nel senso che O Gabbia O Tonali Siccome Tonali Presumo che diventerà titolare Prima di Gabbia Ho scelto Tonali Però Sono molto combattuto Cioè per me Io l'avrei fatto fare O a Tonali o a Gabbia Perché comunque Sono il futuro Secondo me Quindi Gabbia La mia seconda scelta Duarte Non può fare il capitano Ragazzi Parliamoci chiaro Anche se lui era capitano In realtà Lì al Flamengo Al Santos Dov'è che giocava? Lì in Brasile Comunque era capitano Se non ho capito male Duarte Pensa te Quindi Lo saprebbe fare Però Non può fare il capitano Dalot È in prestito Quindi non è che Un giocatore in prestito Può fare il capitano Krunic Non penso Che possa fare il capitano Castiglieco Diaz e Auge Non li vedo capitani E Colombo Che io sempre Non vedo l'ora di vederlo Stasera Bomber Colombo Che sono sempre dalla parte sua Secondo me Non va bene come capitano Quindi La mia scelta è Tonali E Quello che secondo me Sceglierà Pioli È Tatarusano Scrivetemi sotto Nei commenti Quello che fareste voi E se riesco Oggi vi faccio anche Il video con Vito Così ci divertiamo Iscrivetevi al canale Seguitemi su Instagram Ci vediamo comunque Stasera In live post partita C'ho ospiti Ci sono due belle ragazze Ci sono altri ospiti A sorpresa Quindi stasera Mi raccomando In live Alle 11 Post partita Ciao belli Ci vediamo stasera Ciao ciao